Ancora qualche ora di attesa e poi il Teramo saprà qualcosa in più sul futuro di Marco Sansovini. Nessuna particolare novità neppure nella giornata di oggi, con il direttore sportivo Lupo a Milano sì, ma per altre operazioni di mercato. Si attende il massimo sabato, ma non oltre anche perché i biancorossi hanno necessità di completare il reparto avanzato, se non del tutto quasi, prima della partenza per il ritiro di Ovindoli, fissata per il prossimo giovedì. Insomma, non c'è fretta, però il Teramo non ha risposta alla vuole in tempi ragionevoli. Risposta che ha avuto da Stefano Scipioni, che rimarrà con i biancorossi, prolungando il legame col diavolo fino al 2018, prolungamento del contratto che fa seguito ad un riavvicinamento che mano a mano ha dato i suoi frutti. Il suo ricambio sarà il giovane Mattia Placido, 21 anni, scuola Sampdoria, nell'ultima stagione tra Pistoia prima e Savona poi, con gli arancioni toscani sette presenze in campionato, poi a gennaio il passaggio in Liguria, dove ha messo insieme tre gettoni in più, dieci. Sia con la Pistoiese che con il Savona, Placido è stato utilizzato come esterno destro di difesa, insomma, il cambio naturale è proprio di Scipioni, ma il ragazzo nasce come mezzala e lì, all'occorrenza, può giocare senza problemi. Insomma, un jolly che può servire quando ci saranno delle defezioni. Il genovese ha avuto anche una parentesi con l'Italia Under-19, allenata da Paolo Vanori, e nelle prossime ore potrebbe essere un nuovo giocatore del Teramo. Questione portiere, Tonti sembra sempre più lontano e per questo Lupo si vuole cautelare. Brunelli e Melgrati restano i favoriti per prendere il posto da titolare, ma non è affatto scontato che Tonti rimanga conscio di potersi giocare, in corso d'opera le proprie carte e riprendersi quel posto che oggi non è più al sicuro. Intanto, come già anticipato, Alessandro Di Paolo Antonio resterà alla corte di Zauri, saltato il suo passaggio a Pescara, mentre non ci saranno problemi per gli arrivi di Carcalis e Orlando. Entrambi a cavallo del weekend potrebbero essere ufficializzati e aggregarsi al gruppo in partenza per Ovindoli.